Ciao ragazzi, sono Maria, una ragazza di 23 anni. Nella vita faccio la pasticcera e il mio sogno più grande era quello di andare a vivere a Londra. In Italia ho frequentato l'istituto alberghiero e mi sono specializzata come scelta professionista. Londra mi è sempre affascinata per le prospettive di crescita e la meritocrazia, che l'ha sempre contraddistinta nel settore lavorativo. Ho sempre lavorato in pasticceria, sin da piccola, però mi sentivo in gabbia. Volevo lavorare e dimostrarlo non solo a me stessa, ma anche a tutto il mondo. Nella città in cui vivevo sarebbe stato davvero difficile lavorare in un team internazionale e allo stesso tempo arricchire il mio bagaglio culturale e lavorativo. E allora quale città migliore di Londra? Tramite amici che hanno già usufruito dei loro servizi, ho conosciuto Living London Way e ho deciso di contattarmi. Mi hanno trovato una stanza doppia lo stesso giorno in cui l'ho contattato. Oltre a aver seguito un corso di inglese nella loro sede italiana, mi hanno assistito durante tutto il mio bel corso del premato. Tra i loro vari pacchetti ho scelto quello appunto, che comprende vari servizi. E oltre alla ricerca dell'alloggio, anche l'aiuto nella ricerca del lavoro. Ora lavoro in un laboratorio di alta pasticceria. Principalmente mi occupo della preparazione di dolce e torte per cerimonia. È un ambiente dinamico e stimolante. Lavoro 8 ore al giorno, ma anche se faccio 15 minuti in più, mi pagano lo straordinario. La paga non è niente male e mi permette di vivere, conservare e investire qualcosa per lo studio. Sono davvero molto felice perché è proprio quello che volevo. Grazie ragazzi, vero o buono? Tra le varie cose mi hanno aiutato ad ottenere il NIT, nell'apertura del conto bancario e nella ricerca del medico di base. Mi hanno preparato ad affrontare i colobbi e hanno tradotto per me il curriculum e la governetta. Il quartiere dove ho preso l'alloggio è molto bello. Ci sono un sacco di supermercati aperti 24 ore su 24 e tanti negozi anti-vintage dove trovo sempre qualcosa di originale. Inoltre la sera ho scoperto che sono aperti tanti pub e ristoranti. Ho voluto raccontarvi la mia esperienza per dare un segnale a tutti quelli che hanno paura dei cambiamenti. Contattate Living on the Way e seguite i loro consigli. Saranno una spalla forte sulla quale contare sempre. Saranno una spalla forte sulla quale contare sempre.